Ciao a tutti, oggi siamo qui per provare i gamberi rossi della provincia di Trapani per l'appuntamento Aspettando Slow Fish, manifestazione che si terrà dal 18 al 21 di maggio e con i gamberi rossi della provincia di Trapani abbineremo la session di Rodenbach, tre quarti di questa birra ha fatto acciaio, un quarto ha fatto due anni di botte le botti sono solamente rovere di Slovonia, questa è una fermentazione mista quindi la dolcezza della birra si sposa e l'acidità si sposano col gambero l'acidità mi serve per attenuare la grassezza del gambero rosso Grazie a tutti!